Ciao ragazzi bentornati su Produciamo Musica Allora, qualche tempo fa vi ho fatto un video riguardo le impostazioni di base di Serum quindi tutte quelle cose che c'è da sapere per imparare a utilizzarlo vi lascio il link in descrizione oggi in questo video invece ci guardiamo come fare un bel basso vedremo come farne uno relativamente semplice senza complicarci la vita senza andare nello specifico di alcuni generi musicali voglio comunque darvi le basi per potervi costruire da zero un basso che potete utilizzare poi su una vostra traccia, su un vostro remix, quello che volete prima di iniziare raga vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e in descrizione trovate un po' tutti i link utili dove potete trovarmi da Instagram ad altri social andiamo a vedere subito come fare eccoci qua ragazzi, allora per iniziare a creare un basso innanzitutto Serum, quello che amo di Serum è la possibilità che ti dà di sfruttare gli LFO, gli inviluppi per andare a modificare praticamente tutti i parametri che noi vediamo qua giù noi per fare un basso iniziamo ad esempio da questo oscillatore che è già attivo ovviamente noi potremo poi aggiungerne un altro, questo è l'oscillatore B, questo abbiamo il sub dobbiamo un po' vedere cosa ci serve fare ovviamente si può partire da cose molto semplici per poi andare ad aggiungere elementi di complessità con appunto gli LFO e l'inviluppo partiamo subito da questo, allora di base c'è questo oscillatore a dente di sega io andrei a cambiare mettiamo Basic Shapes, sono dei preset che già trovate già trovate su Serum prendiamo queste Basic Shapes che sono diciamo gli oscillatori quelli classici come vedete quello a rampa triangolare quadrato, insomma ci sono un po' tutti a noi ci interessa questo qua, quello sinusoidale perché tendenzialmente per creare la parte di low end di un basso ci serve una perché praticamente per fare la parte di low end di un basso è molto comodo avere una sinusoide poi ovviamente possiamo andarci ad aggiungere l'altro oscillatore con altre forme d'onda innanzitutto iniziamo con questa come sentite è molto semplice, è proprio quella frequenza precisa noi possiamo innanzitutto qui magari abbassare di un'ottava intanto ok come sentite abbiamo appunto l'ottava inferiore tra i valori che vediamo qua giù fra questi valori che possiamo andare a modificare per adesso per adesso per fare il basso diciamo i valori che ci interessano di più qui da modificare sono il livello il detune che possiamo andarci ad aggiungere con l'unison quad come sentite cambia molto ok e poi questa non la tocchiamo perché per il momento se andiamo a modificare la wave table position ci va a cambiare proprio l'onda e quindi al momento non ci serve e ci potrebbe interessare attivare questo sistema di warping che praticamente è una monopolina qui abbiamo tantissime diciamo modalità prendiamo plus e meno che praticamente ci va a modificare la forma della nostra onda in base appunto al punto in cui noi la posizioniamo e quindi anche questo è comodo andarlo a modulare con i valori che ora vi faccio vedere come sentite può risultare una cosa interessante la mettiamo qua a zero per adesso altra cosa che ci serve qua in basso abbiamo l'inviluppo inviluppo 1 praticamente è come va a suonare la nostra onda i tempi di attack, di release, di decay andiamo lì un attimo per i bassi ad esempio non tutti però per i bassi soprattutto i sub è comodo dargli un pochino di attacco un pochino più alto in modo da dargli tempo di salire secondo appunto una tempistica che può variare da 5 millisecondi a anche vari secondi ma restiamo sui 100, 150, 200 millisecondi questo perché può dare spazio ad esempio in un drop al kick invece che andare a fare un lavoro di sidechain dopo possiamo direttamente con questi valori di attack già aiutare il mix fra casso e basso per esempio e qui sui tempi di release, di attack, di decay vediamo un pochino per il momento direi che possiamo anche lasciarlo così mettiamo un pochino di release per evitare che non clippi quando stacco la nota questo inviluppo, anzi facciamo l'inviluppo 2 possiamo andare qua sul filtro mettere un passa basso questo qua andiamoci a mettere l'inviluppo sul cutoff in questo momento come vedete praticamente quando noi andiamo ad attivare un inviluppo andiamo a modulare un parametro si attiva questa linea blu che ci indica in che modo questo parametro viene modulato quindi se io vedete qua c'è del movimento adesso si vede poco perché è vedete adesso sale molto lentamente io ora voglio che però questo parametro inizi dal punto in cui metto il mio cutoff in avanti quindi devo o premo alt shift e clicco sulla monopola come vedete il valore parte da questo punto in cui io metto il cutoff fino al valore che scelgo io fino al massimo oppure posso andare sulla matrix che è questo schema qua giù che vi riassume tutti gli inviluppi e gli lfo che abbiamo collegato ai parametri e qua giù andiamoci a scegliere quello che abbiamo messo che al momento è l'unico e qui abbiamo queste freccettine che ci indicano come si sposta prima era con questo qua che è bipolare e lo lasciamo sul con una freccettina a destra che indica che il valore parte da 0 a 100 e non va e non oscilla diciamo fra meno 100 e più 100 per farla breve noi mettiamo qui in realtà con un sunusoide così semplice non si apprezza molto questo filtro dobbiamo eventualmente dopo inserire un altro oscillatore cosa che potrei fare allora questa a sinistra è il sub quindi è un oscillatore semplice che noi possiamo selezionare la nostra forma d'onda l'ottava il livello e il pan al momento non lo attiverei attiverei piuttosto quest'altro che è il secondo oscillatore come sentite facciamo basic shapes prendiamo una non una square prendiamo questa qua come sentite adesso il filtro è più qua 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 Grazie a tutti. Proviamo ad attaccare questo LFO anche al band. Sentite come questo parametro molto semplice in realtà dà molto carattere al basso, con un semplice L in sviluppo. E potremmo attaccare invece questo di qua, ci mettiamo sempre un band plus o meno. Una cosa importante quando si va a costruire un basso o comunque un synth in generale è cercare di dare del movimento che secondo me è molto utile a rendere più interessante il suono. In questo caso come avete visto vado a modificare questi due parametri, il cutoff e già abbiamo una cosa molto più interessante della semplice sinusoide a quella frequenza che non serve a niente. Se non in casi particolari, in caso dobbiamo fare un sub e quindi ci serve qualcosa di abbastanza pulito e semplice per dare quelle frequenze intorno ai 20-30-40 Hz. Ovviamente tutti i parametri di attack release li possiamo andare a modificare per fare in modo che il nostro basso rientri nella traccia che andiamo a costruire. Quindi per brani a BPM più alti servono magari dei bassi più corti e più impulsivi, mentre su dei brani più lenti oppure in particolari sezioni del brano ci possiamo mettere dei bassi magari molto più lunghi che comunque hanno una presenza maggiore rispetto a tutti gli altri strumenti. Proviamo anche a... E qui sono andato a mettere all'inviluppo anche sull'altro oscillatore. Andiamo sulla parte di FX, che questa è un'altra parte molto figa di Serum, quindi noi ci possiamo andare a inserire tutti questi effetti e andarli a spostare come ci pare. Aggiungiamo un po' qualcosa, vediamo un po' di Hyper. Mettiamo qua un compressore multibanda per schiacciare un po' tutto. Aggiungiamo un po' di Hyper. 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 vediamo è molto utile e molto figo andare a buttare gli inviluppi e le modulazioni che qua ancora non ve l'ho fatto vedere per andare a modificare anche tutti i parametri degli effetti quindi il valore di mix che quindi va a miscelare il suono originale con la parte effettata tutti i vari parametri dei vari effetti ok andiamo a buttare un filtro prima della compressione possiamo mettere qua abbiamo tutti i filtri possibili da passalto passabasso notch peak abbiamo dei bandpass abbiamo dei filtri multipli che con delle modifiche all'interno dei parametri di serum possono passare da tutti i vari tipi di filtro potendole modulare abbiamo qui i flanger che volevo recuperare adesso quindi prendiamo un comb filter prendiamo un comb filter per dargli un po' di parte non metallica però comunque una parte di alte frequenze che può essere utile per un basso rimuovo questo e ci ho avuto questo terzo inviluppo come vedete poi qua ci sono altri plugin ci sono altri effetti come le q che possiamo andare qui potremo ad esempio riprendere questo inviluppo metterlo sul gain della parte bassa ctrl alt shift e clic così torniamo come dicevo prima per la modulazione ok mettiamola su zero qui facciamo invece il contrario mettiamo un pochino di diciamo di compressione sulle alte ok il delay possiamo evitarlo per adesso direi che per il momento ci siamo come vedete non è stato proprio così semplice come vi avevo detto perché secondo me qua è utile sperimentare molto e provare a veramente lavorare su tanti parametri provare a inserire modulazione effettistica su tanti parametri l'utilizzo degli inviluppi secondo me è molto importante poi l'utilizzo degli oscillatori che in questo caso il sub ad esempio non l'ho utilizzato è molto utile e aiuta tanto a costruire un basso figo che può andare comunque su tantissime tracce diverse da poter utilizzare per appunto brani originali o comunque per per vostre tracce altri parametri secondo me fighi di serum che non vi ho fatto vedere adesso in questo video magari lo vedremo in un prossimo video sono le macro ovvero questi valori a cui non possiamo collegare tutti i parametri da noi scelti e con una singola macro appunto andarle a modificare contemporaneamente tutte per avere un controllo maggiore su il già complesso insomma routing che si può fare dentro serum qua in basso abbiamo la parte di voicing e di velocity e di note queste sono comode ad esempio la note può essere comoda applicata al cutoff dei filtri di questo o di quest'altro filtro per andare a modificare a filtrare le frequenze in base alle note suonate quindi magari su delle note più alte andare a band passare delle frequenze medio medio alte oppure con delle note basse di un sub o di un basso come in questo caso andare a filtrare tutte le parti di frequenze alte inoltre c'è la parte di voicing che può essere comoda per creare il legato fra le note per creare un portamento che è vediamo come sentite il portamento è il gliding cioè il passare da una nota all'altra non diciamo a scatti ma con una specie di speech shifting questo può essere comodo anche in sound design allora ragazzi per questo video è tutto se avete delle domande fatemele pure nei commenti vi risponderò se il video vi è piaciuto mettete un bel like potete seguirmi anche su instagram chiocciolaproduciamo.musica oppure sul canale e gruppo telegram produciamo musica lo potete trovare tranquillamente oppure trovate tutti i link in descrizione e ve li lascio qua sotto che dire io vi aspetto per tutti i prossimi video che usciranno per i prossimi video tutorial anche su serum vi aspetto ciao producer ciao 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 ciao